chi lo vuole ragazzi io io l'ho attivata ma se siete dei real fan qui c'è fior di neve ragazzi pronta allora vabbè ragazzi vediamo se il prossimo che dona rosso facciamo una bella lavata di faccia infatti Michael Zoboli quando hai detto rosso questo qua ha promesso ancora di farlo secondo me King04 ti fa la panna in faccia secondo me non lo so perché ma stasera te la faccio la faccia ragazzi rimangono in 63 in game ci stiamo manca sempre di meno per vedere il vincitore mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e lasciate ora un bel like no raga c'è l'hacker è un hacker veramente raga c'è un hacker ragazzi fermi tutti papà è un hacker questo questo qui si raga è un hacker vero perché come fai a capire è un hacker guarda 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 aspetta guarda 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 non ha missato un colpo non ha missato un colpo raga è un hacker mi sa si eh raga è lui è solo forte ma raga non ha mitraglietta si è preso adesso ha fatto il cuoricino cosa vuol dire no non sto capendo ha confermato di essere no non è un hacker non è un hacker non è un hacker è bellissimo stasera mai vista bella antonino ma di rimoldino bella però ma si può fare il cuore col fortnite fortnite fate una colletta ragazzi ogni euro che donate adesso lo do a mio padre per pagargli un logopedista per dire fortnite nel modo corretto fortnite 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 no fortnite 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 ragazzi attenzione stiamo cercando di capire se questo è un hacker sembrerebbe proprio di si o dicono che è solo forte vediamo raga vediamo 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 un po sono qui per vedere è lui è uno youtuber lo conosco ha detto uno vediamo vediamo davide doma dominati si chiama allora ecco qua davide bella rimu bella aaa aspettavo da tanto questo momento mamma mia allora dai aspetta ma no di entrare nel server penso aspetta michael tu devi stare attento che quando parli così ti si preintende molto di entrare nel server privato michael ci entri nel prossimo vai tranquillo e faccio un altro poi se tu ti lasciate un like e vi iscrivete ok vai ragazzi oila raga però però non mi sa un colpo raga non mi sa un colpo io non vi voglio bene ma non mi sa un colpo raga rimangono in 52 spolliciate io ho paura che parta la guerra delle donazioni ho paura ragazzi che adesso qui c'è battaglia perché c'è il king 04 che li inquieto ragazzi stiamo valutando se è un hacker o no potrebbe essere semplicemente da parte alla mira assistita poi c'è neanche un altro il de angelis guarda vediamo vediamo da qua qui c'è una battaglia ragazzi a far paura andiamo avanti aia aia raga vabbè qua è stato bravo eh qua mirato secondo me da qua non possiamo definirlo hacker però raga vediamo rimangono in 50 lol no raga secondo me è semplicemente bravo però alcuni di michael zavoli si dicevo di entrare infatti michael però sai come qua ci si fraintende sul video che tu sei un pazzo eh michael ma ne facciamo un altro tranquillo bro allora non è un hacker l'hack non è un cracker ha scritto non un hacker allora ragazzi quando rimangono 13 persone nel server do la password per la prossima partita quindi non ve ne andate ora se ve ne andate ora non fate Luca Delia tuo padre è un grande grazie a cuore un abbraccio siamo 479 abbonati chi si abbona al canale riceve la mia richiesta amicizia cosa aspetti aspetta Emanuele attenzione ecco il rosso ecco il rosso sono dal tonico tritanopia quindi il rosso lo vedo verde un poco di panna rio no Emanuele grazie di cuore Emanuele lo so ma Emanuele allora dona un verde così no il verde non lo vede la panna è per il rosso ragazzi no no ragazzi cioè Emanuele io ti voglio bene grazie per il cibo se volete vedere rimodigno pieno di panna non possiamo raga vediamo attenzione piuttosto me la mangio io la panna però non si può raga oh però la sfida è questa raga questo non mi sa neanche un colpo rimangono in 42 ragazzi allora attenzione adesso vedi che Emanuele lo fa veramente il rosso è impazzisco Emanuele Emanuele me li fa direttamente il rosso così impazzisco ma i colze bolli tengo sempre quella non c'è io tengo sempre quella se non entro c'è un problem eh ma la cambio ogni tanto Michael la password possiamo cambiarla mettere allora facciamo che te la do prima te Michael aspetta ascolta aspettiamo eh non puoi già dirla la password papà raga rimaniamo in 41 rimaniamo in 41 raga sono curioso di vedere chi ha vinto secondo voi sondaggio in chat questo che sto aspettando riuscirà a portarsi oh Miscione nero azzurro Miscione ma dai tranquillo che non puoi donare non dovete neanche dirlo non posso donare non sto qui divertitevi e basta raga secondo voi questo che sto aspettando riuscirà a vincere la partita sì o no votate in chat allora aspetta Romaniello Mauro allora papà di rimo cosa c'è? è spostato il green screen lo screen green ok vai ragazzi c'è baffo nel server cos'è che? chi è baffo? è uno fortissimo dov'è che è baffo? baffo? no non è un amici socio ragazzi ok sì no alcuni forse lo vince sì 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 si è un hacker lo vince no ma raga non dite che allora raga chi si abbono al canale con un euro può già avere la mia ricast'amicizia quindi tranquillissimi quanti like siamo? vediamo se siete bravi aspetta saluto gli ultimi iscritti ragazzi saluto gli ultimi tre iscritti che sono vediamo qua Alex Casa Luca Ferlisi e Elisa grazie di cuore per le iscrizioni un abbraccio a Jack06 un abbraccio grazie grazie ragazzi attenzione rimangono in 37 intanto state arrivando in tantissimi sto regalando ragazzi il bundle 3000 vivax benvenuti in live dai dai per vincerlo un like un'iscrizione basta ok bella Ayrton bella Andrea ragazzi siamo sempre più vicini a vedere l'endgame sono veramente curioso siamo ancora in 36 e questa è la safe wow un abbraccio ora mi danno dell'eo 0 euro nella banca mi hanno chillato si chiama baffo love aziz Francesco Mariani ciao carissimo benvenuti in live dicono che c'è baffo boh bella per baffo se sei in game io non li vedo uno con i baffi qua no allora papà per favore per favore devi essere serio serio e professionale devi essere serio allora ragazzi michael se no non aggiusterebbe l'inventario quello hai anche ragione mi piace al michael attenzione 81 no raga questo è uno è uno bravo a giocare e basta ragazzi e michael che quando scrive lui dono in teoria baffo si chiamava rcn baffo raga vediamo lo vediamo in serie raga mi raccomando saluto gli ultimi iscritti non vi state iscrivendo raga non vi state iscrivendo raga non vi state iscrivendo me ne vado via basta finisce non far più i server basta raga però questo che sto aspettando se non vi iscrivete facciamo più server basta mi mandi la richiesta king scrivimi il tonic mamma che botta l'ha ucciso papà dll snowy questo è un altro bravo ha tirato una dabbata raga ha chiesto se giochi a warzone oh mamma aspetta papà c'è un fight c'è un fight attenzione raga build build su raga ma sono tutti pro player dentro sta lobby cosa succede raga cosa sta succedendo fermi tutti raga voglio il like cosa sta succedendo ma tanto michael quant'è di vista e come avete visto ragazzi l'hacker in questione sono io o almeno rimoldigno ha iniziato a darmi dell'hacker a caso però va bene e si non c'era un vero hacker ero semplicemente io volevo farvi vedere questo piccolo spezzone della sua live non lo so così ho pensato vi facesse piacere vederla e quindi ho voluto postarla spero almeno vi piaccia e scrivete qua sotto la vostra reazione la prima reazione che avete avuto appena avete visto il mio nome e ragazzoli mi raccomando ho chiesto per lo scorso video di minecraft 50 like raga questo qua provo a buttarla lì visto che ci siamo arrivati in un giorno a 50 like ragazzoli proviamo ad arrivare a ben 65 like alziamo il prezzo confido in voi mi raccomando raga se ancora avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna delle prossime live video e quant'altro vi ricordo codice creatore negozi oggetti per sciopare questi skin fantastiche raga ma quanto sono belle queste skin li adoro tutte bellissima anche lama psionica tanta tanta roba mi raccomando codice creatore davide dominati raga usatelo vi faccio vedere velocemente lo shop eccolo qua non male nuove skin abbiamo sirena bella 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 come skin abbiamo lupo onesto onesto onestissimo raga il set cioè fantastico un deltaplano e tre picconi tutte e tre fighi 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 raga ma quanto è bella questa skin è abnorme ma è fantastica l'adoro veramente doppio stile per il nostro mantellozzo eccolo qui bella 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 quindi ragazzuoli mi raccomando codice creatore dei negozi oggetti davide dominati noi ci becchiamo presto in live verso le tre mi raccomando non mancate bella bella ciao ciao Grazie a tutti.